Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AC News. In questo video tratteremo di un argomento molto importante. Andremo a scoprire insieme la verità sulla paternità di Adnan. Prima di proseguire come sempre, se vi va, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere le prossime anticipazioni. Ripartiamo. Torniamo un attimo indietro e facendo un breve riassunto fino ad arrivare alla rivelazione di Zuleya nei confronti di Yilmaz. Dopo essersi sposato con Mujgan, lei non farà altro che notare il forte legame tra lui e Zuleya, e questo porterà a tanta gelosia. Grazie a Beice, tutto ciò che pensa si amplifica sempre più in negativo, tanto da arrivare al punto di vedere Zuleya distrutta, pur di salvare il suo matrimonio. Mujgan con una mentalità diabolica si finge di essere Yilmaz e chiede a Zuleya di incontrarsi nel bosco. Quando Zuleya arriva sul posto, si trova davanti alla faccia Mujgan. che estrae la pistola e gli dice che sa tutto sul fatto che Adnan è figlio di Yilmaz. Egli dice che non ha nessuna intenzione di perdere il marito. Zuleya gli dice che non è assolutamente vero, ma Mujgan ormai non è più in sé. La obbliga ad avvicinarsi ad un albero con un cappio che scende da un ramo. Gli grida di salire sulla roccia vicino alla corda e di impiccarsi. Zuleya è in lacrime. Sale sulla roccia e si mette il cappio. Però intuendo che Mujgan stia esitando, se lo toglie e le dice di darle la pistola. Così facendole promette che non racconterà nulla. All'inizio non gliela consegna. Allora cerca di prenderla. E durante lo scontro parte un colpo di pistola. E Zuleya viene colpita al petto e cade a terra. Mujgan corre a chiamare aiuto. E Zuleya viene trovata piena di sangue con vicino la pistola. Una volta arrivata all'ospedale, dopo una lunga operazione, riescono a salvarla. Cettini informa Yilmaz dell'accaduto. E corre in ospedale dove trova Demir. Lui lo accusa di essere la causa dell'incidente. Da lì nasce una discussione. Fino ad arrivare alle mani. Ma vengono divisi dal personale medico. Yilmaz è distrutto da tutto. Si sente bloccato in un matrimonio non felice. E dice a Fecheli che vuole chiedere il divorzio. Nei giorni seguenti, Yilmaz va spesso in ospedale di nascosto a vederla. Ma dopo giorni di tristezza assoluta, assiste al risveglio di Zuleya dal coma. Zuleya una volta sveglia, inizia piano piano a ricordare tutto ciò che è successo. Il giorno seguente, si trova faccia a faccia con Mujgan, che vorrebbe farla passare per pazza. Ma sfortunatamente per lei, Zuleya ricorda ogni cosa, e gli comunica, che le farà patire le pene dell'inferno, come ha fatto con lei. Dopo un paio d'ore, Yilmaz si reca nella stanza di Zuleya. E lei gli dice che gli vuole dire una cosa molto importante. Con i battiti del cuore a mille, gli rivela che Adnan in realtà è suo figlio. A questa notizia, Yilmaz rimane immobile, le lascia la mano che stava stringendo, e con un tono rabbioso, le dice perché non gliel'ha detto tempo fa. Lei gli fa capire che aveva timore di ciò che poteva succedere tra di lui e Demir. Ma lui le dice che gli avrebbe dato tutto l'appoggio necessario. Yilmaz dopo ciò, è molto arrabbiato. Allora lei per tranquillizzarlo, gli dice tutto ciò, che l'ha portata a sposare Demir e a non far saper nulla del bimbo. Lei gli fa capire, che Demir, le aveva tolto più volte i bambini, così che non potesse parlare. Lui le ribadisce, perché glielo dice solo ora. Lei gli risponde, che non ci sarebbe stata altra scelta. Mujgan ha tentato di farla fuori, e gli dice ciò che stava per combinare. Yilmaz è distrutto da queste parole. E ora come ora non può più fermarsi, si riprenderà per forza di cose suo figlio. Zuley ha lo prega di fermarsi, e di costruire un futuro insieme. Lui non ci pensa minimamente, perché per lui non esiste più e se ne va. Prima di uscire dalla porta, lei gli urla che lei si ucciderà. Uscendo sul balcone, si sporge dalla ringhiera, e lui le dice di non buttarsi. Ma lei le controbatte che non può vivere senza di lui e i suoi figli. Poi si sporge ancora di più, e si butta giù. Ma lui riesce a prenderla per il braccio, e gli promette che farà qualsiasi cosa per lei. Demir è arrivato sul posto, e vedendo Zuley ha che stava per cadere giù, gli domanda cosa sia successo. Yilmaz conferma la spiegazione di Zuley ha, cioè che era uscita per prendere un po' d'aria, e ha avuto un giramento di testa improvviso, che le aveva fatto perdere l'equilibrio. Gli Yilmaz ora come ora, è indeciso se riprendersi suo figlio, e scontrarsi con Demir, o aspettare e rispettare ciò che ha detto a Zuleyha. Le anticipazioni terminano qua, come andrà a finire questa situazione? Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale, per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ciao!